PNRR Women, il convegno a cui ha partecipato l'onorevole Cristina Rossello, membro ovviamente della Camera dei Deputati, nella Commissione Politica per l'Unione Europea. Lei ha caratterizzato il suo intervento e siamo nel campo della certificazione della parità di genere, che è prevista anche nell'ambito del PNRR, proprio da qui il collegamento, con delle proposte. Ce le può sintetizzare? Sì, grazie. Buongiorno. Allora, la prima è intanto una ricognizione di quello che è stato fatto, perché la scorsa legislatura ha prodotto tutta una serie di normative per noi giuriste che ci occupiamo della tematica, sicuramente sono importanti. Ora si tratta però di presidiare queste manovre politiche e legislative e di verificare che effettivamente l'attuazione non sia una cosa isolata o comunque selezionata a pochi, ma che dia una vera possibilità al contesto imprenditoriale del Paese di rispondere, dotandosi sia di strutture adeguate e dotandosi anche di una cultura di impresa necessaria. Allora, visto il brillante convegno organizzato dalle esplosive, Florinda Scicolone e Irma Bianchi, che ovviamente sono leader in questi settori, mi sono premurata di portare al di là di una ricognizione normativa due proposte. Una, la creazione di un osservatorio che non sia il monitoraggio costante delle cose fatte, ma un osservatorio dei problemi che le imprese incontrano per poter adeguarsi alla certificazione e quindi per poter avere quegli accessi necessari ai bandi e alle attività che l'Unione Europea ha messo a disposizione con i fondi PNRR, sia quelli di credito che quelli gratuiti, perché ci sono ovviamente le due tipologie di attività. E quindi, siccome questi fondi arrivano, questi fondi prevedono una serie di lavori fatti anche con sveltezza, dobbiamo essere noi attenti a che la declinazione sul piano territoriale avvenga con successo. Per farlo le imprese si devono dotare di queste caratteristiche, come abbiamo detto, e dei famosi pilastri che sono la base del PNRR e quindi devono essere rapide, capaci e preparate. L'unico modo è mettersi a disposizione, non abbiamo altro. L'osservatorio deve essere questo. L'altra, invece, proposta è quella dell'interlocuzione col tavolo che è stato istituito, un tavolo di lavoro che vede le componenti ministeriali e delle componenti di esperienza tecnica adeguate, ma nel passaggio da un governo all'altro ovviamente ci sono poi dei subentri di ruolo e delle verifiche che vanno fatte anche sulle missioni che ogni ministero dà. Abbiamo sentito, ad esempio, quella trasformazione del Made in Italy che è fondamentale agli effetti del PNRR e quindi bisogna interloquire con questi soggetti. Ovviamente bisogna farlo rapidamente e quindi ho pensato di mettere a disposizione una struttura per poterlo organizzare con Irma e Florinda e con tutte le nostre colleghe giuriste e farlo a partire da gennaio perché i tempi stringono. Senta, una domanda proprio velocissima. Queste le proposte, abbiamo visto la parte normativa, eccetera, ma insomma, secondo lei, nella media, perché poi l'Italia è un paese, come diceva, un libro troppo lungo, quindi è anche molto differenziato a livello territoriale, c'è una maturità da parte delle imprese, almeno quelle più grandi, perché parliamo comunque di imprese sopra 50 dipendenti, di capire, di aver già compreso l'importanza del passo della certificazione della parità di genere, oppure ci sono ancora zone d'ombra? Ma la maturità ci può anche essere, però io dico una cosa, la burocrazia è il tema che affligge l'imprenditore. Tutto quello che riguarda la normativa, la regolamentazione viene percepita con fastidio, è a ben vedere, perché ovviamente sono costi per un'impresa e anche tempo per studiare, capire, cogliere, gradare le situazioni. Allora, tutta questa parte deve essere sicuramente superata e lo si può fare solo con la semplificazione, lo si può fare mettendosi a disposizione, come stanno facendo queste giuriste di grandissima caratura, se noi pensiamo che sono in confindusse, sono state accolte con rispetto e con considerazione, sono tutte nell'orario di lavoro e noi sappiamo che l'unica cosa che abbiamo da vendere è il nostro tempo e lo fanno perché hanno degli ideali che vogliono mettere a servizio del Paese. Grazie mille, grazie, grazie per il tempo dedicato, arrivederci.